Anche se ormai è certificato da ricerche e sondaggi di organismi economici autorevoli a livello nazionale ed internazionale che le leader donne siano preziose oggi per il successo delle aziende, le donne fanno ancora molta fatica ad occupare ruoli di potere sul posto di lavoro nel nostro Paese. Ancora poco presente nella riflessione sulle strategie finalizzate allo sviluppo economico, la leadership femminile è il tema che l'associazione di promozione sociale Noi Coach ha messo al centro la tavola rotonda che si terra domani in Castello Stens nella sala Alfonso I dalle 15.30 alle 17.30. Ma che cosa si intende per leadership femminile? Perché oggi sembra essere necessario al mondo del lavoro? Perché nonostante le valutazioni positive della ricerca in materia risulta ancora tanto difficile per le donne fare carriera sul posto di lavoro e arrivare ai vertici delle aziende? E ancora, chi sono le donne che possono aspirare alla leadership? Quanto conta l'ambiente di lavoro in cui sono inserite? Come si esprime infine la leadership nelle donne? E quanto può scostarsi dai modelli maschili o al contrario? Quanto invece deve prenderli ad esempio? Sono queste alcune delle domande alle quali sono chiamate da risposta le cinque professioniste provenienti da diversi mondi occupazionali che animeranno la tavola rotonda moderata da Luca Scannavini, presidente di Noi Coach. Avremo modo proprio di vedere visioni sostanzialmente diverse che confluiranno su uno stesso punto, cioè come ognuno è arrivato in quella posizione partendo da strade chiaramente completamente diverse, da percorsi diversi, da contorni diversi. Quindi questo proprio è l'aspetto che deve sostanzialmente emergere. Io spero anche che vengano molti giovani, abbiamo una capacità divulgativa un po' limitata, è un'associazione di coach, è un'associazione di volontariato. E quindi noi vorremmo sperare per convincere, io ho molti ragazzi o ragazze che vengono disorientate a questa offerta, chiamiamo la formativa esagerata che c'è fuori. E ai miei tempi non c'era, noi avevamo la fortuna di internet, c'era un po' il passaparola, il genitore, l'amico del genitore. Adesso però questa offerta un po' disorienta. Allora, anche nell'ambito del mondo femminile ci sono corsi specifici per? No. C'è la possibilità di, e forse su questo devo dire, le donne, lancio una provocazione perché fa parte, potrebbero pensare a questo aspetto. Adesso che siamo in un mondo in cui la formazione tradizionale, cioè quella scolastica universitaria, è lì, è consolidata. Poi abbiamo quella formazione, quella formale la chiamo, quella informale che la fai con online, scusatemi il termine, sono marchette, le compriamo a 50 euro, ma non è la formazione one to one. Quindi la possibilità, sta emergendo, stanno venendo fuori queste iniziative. Però vorrei che le donne occupassero questo spazio di formazione perché sentono quello che hanno visto. L'uomo lo racconta per quello che vede, cioè lo racconta in terza persona.